Il vincitore del concorso Il Gallo del Mesi di giugno non è un paninaro, bensì una sfidinzia, o meglio due sfidinzie. Ci ha inviato questa foto Milena Simbola, una giustona di Cagliari. La prima foto risale al 1988 e la vede sorridente nella spiaggia di Poetto, abbracciata la sua amica Simona. Si intravede un piaggio sì, riva al mare ed altri motorini, quando si poteva accedere con i propri ferri accarezzati dalle onde marine. Da notare le fantastiche cinture di El Ciarro in bella vista. Pensate che questa foto in meno di 24 ore ha superato i 140 commenti e i 1600 like della serie Tirano più due preppi che una locomotiva a vapore. In quest'altra foto risalente al 1987 vediamo Milena con la sua cintura di El Ciarro, in sella al suo sì, di un elegante blu scuro con una vera posa da panino shake. Con il finire del paninaresimo, che ricordiamo a Cagliari durò qualche anno in più rispetto a Milano e Torino, vediamo Milena in sella all'Aprilio RX 125 con un look già mutato. Via la cintura del Ciarro e i colori lasciati a casa nell'armadio. Purtroppo il paninaresimo era agli sgoccioli anche in Sardegna. Nel 1990 Milena scattò questa foto con una gilera SCP-02, sempre in compagnia di Simona, la sua storica amica del cuore. Da notare comunque lo stile ancora veri preppi. Da appassionata delle due ruote vediamo Milena collezionare foto con i ferri due ruote della sua company. Nell'esempio anche questo scatto fotografico che la vedi in sella a un'Aprilio F1 125 Sintesi. Terminiamo la presentazione della vincitrice del concorso Il Gallo del Mese di giugno 2020 con questa foto di Milena in sella a una Honda NSR 125R in black. Grande Milena, per un mese detieni il titolo Il Gallo del Mese, o meglio, in questo caso essendo unisex il concorso La Sfitinzia del Mese. Vuoi essere tu il prossimo vincitore del concorso della pagina Paninaro Il Gallo del Mese? Riceverai gratuitamente la Paninocard personalizzata. Verrai selezionato tra i tanti paninari d'Italia. Come fare per partecipare? Inviaci una tua foto gallica, preferibilmente degli anni 80 oppure odierna, e verrai selezionato tra le tante foto che ci pervengono ogni giorno in redazione. Attrezzati giusto e vinci il Gallo del Mese! Un consiglio a tutti i followers della pagina Paninaro. L'accurata selezione delle foto avviene osservando una serie di parametri finalizzati a scremare l'enorme quantità di foto che vengono costantemente inviate. Tra i parametri sicuramente vengono scelte le foto di maggiore qualità, quindi non inviatemi la foto della foto scattata con il cellulare, specie con i riflessi dovuti al flash della fotocamera, per cui cercate di preservare al massimo la qualità dei vostri ricordi facendo una bella scansione della vostra foto. Allora, cosa aspetti? Vinci il concorso Il Gallo del Mese! Il Gallo del Mese!